Oggi mi carignacchi e ho un po' paura su quello che andremo a fare Infatti finalmente potrò provare Bibi anche in pezzo grosso E lo farò in grande stile, ossia con il massimo dei biglietti possibili Quindi mi raccomando lasciate un bel like se volete altri video di questo tipo O comunque se volete più Brawl Stars sul canale Io vado subito a mettere ben 20 biglietti tutti assieme in una sola volta Per andare in pezzo grosso con Bibi Ovviamente Bibi per chi non la conoscesse è il nuovo Brawler Adesso noi siamo contro il pezzo grosso quindi non siamo noi E io sinceramente non so se riusciamo a respingere con la nostra mazza da baseball il pezzo grosso oppure no Vedremo ragazzi, lo scopriremo Mi devo avvicinare e buttarlo via Boom! No, no ragazzi no Vi facciamo del danno ma non lo allontaniamo È davvero un peccato perché ci speravo nell'allontanare i Brawler Avversari soprattutto Oh! Non è vero lo allontano Non è vero lo allontano Mamma mia ragazzi E quindi posso spingere verso il nostro spawn Sarebbe fantastico spingere verso il nostro spawn Mi sono dimenticato che ho speso 20 biglietti per questa cosa Quindi mi devo impegnare tantissimo Oltretutto non ho manco fatto una prova prima di entrare Sono direttamente entrato Mannaggia non è il Brawler più adatto per questa modalità probabilmente Dai muorici! Ok a muorirci c'è morta 2-0-9 non so se abbiamo vinto No ragazzi non basta I primi 20 biglietti sono andati via totalmente sprecati Cioè sprecati per modo di dire Ho appena preso 7 case così gratis Cioè gratis no il cavolo 20 biglietti Ritentiamo di nuovo con Bibi Sperando di essere noi pezzi grossi Nono tale da vedere come funziona Invece no è Piper Aia! Aia! Ok che ho tanta vita ma non così tanta a quanto pare Sì 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 Oddio le bombe di... Quanto fanno male quelle bombe! Qui mia bella Piper Che ti butto verso lo spawn E poi sono fatti tua Ok Buttaglielo in faccia Buttaglielo in faccia Mamma mia signori Mamma mia adesso Uuuuh Uuuuh Le botte Le botte signori Ciao Ciao pure con la... Pure con la palla gigante Addio Piper In un minuto e 28 Siamo riusciti a farla fuori E quindi ci becchiamo quante? 460 che... Vabbè non avevo abbastanza token per raddoppiarli Suddiventano altre 7 casse Signori Ma io continuo perché voglio vedere se riusciamo a diventare noi il pezzo grosso della partita No ancora non siamo il pezzo grosso E Jesse ragazzi è fortissimo in questa modalità Secondo me è il brawler più forte in questa mod Fatemi sapere voi cosa ne pensate Ancora non sta sparato E cacchio sta Eccola Io inizio già a tentare di buttargliela Devo riuscire a far rifare più rimbalzi possibili alla mia final Ok L'ho presa un sacco di volte Quante volte l'ho presa Mamma mia Vai Vai Uuuuh Uuuuh L'ho presa 4 volte Quante volte l'ho presa Mamma mia Mi ho fatto tantissimo male Vai 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 Ora si Si quando la spingiamo che si fa male Mamma quanto si fa male Ciao mondo Ciao mondo 2 minuti e 23 per la Jesse Quindi questa è sconfitta abbastanza clamorosa Altre 360 gettoni Male male Andiamo di nuovo con altre 20 biglietti signori Voglio essere io Ma posso essere per una sola volta io con Bibi cavolo Ok grande lo stoppiamo con la nostra mossa Lo stoppiamo con la nostra mossa Signori No perché non ha rimbalzato Neanche un minuto e quasi il 60% Stiamo andando molto bene Ci sta Ci sta tantissimo signori Con la mia mazza Distruggo anche i giganti Perché cavolo quanto è grosso Frank Dai Quello so che Ah voleva far fuori per forza me però Ci è morto Un minuto e 35 Raga lasciate like Anche perché è tipo L'ottantesimo biglietto che spreco Ma prima o poi diventerò io il gigante O no Voglio essere io il pezzo grosso Dai Sbutto pure 20 biglietti ogni volta Tu vai giù Come prendo in giro rosa Come me la prendo in giro Che la faccio andare giù Tu vai giù ti ho detto Ti prendi anche un po' la mia final E ti ho detto che devi stare lì giù Oh ecco Perché la sposto sempre Mamma mia pure la final Un minuto e 25 Manca il 15% di vita Non me lo sarei aspettato Questo grandissimo risultato Contro rosa 100 biglietti già sprecati E adesso ne sto sprecando Altri 20 E non sono ancora io il boss Ma si può diventare il boss Con Bibi È possibile cavolo Sì Ottimo ottimo Questo quadruplo rimbalzo Vai che si continua Qui a rimbalzare con la palla Infatti ha dovuto scappare via A gambe levate Rotola ragazzo Laggiù Vai vai Rotola Rotola Vedilo come rotola Con la palla che gli rimbalza Quattro volte in faccia Un minuto e 14 Ci sta al 5% Mi sa che ci è morto malissimo Ragazzi mancano gli ultimi 80 biglietti Ti prego Brawl Stars Fammi essere a me il pezzo grosso Niente da fare Niente Niente Nada Ok si è praticamente arresa questa rosa Ha capito che non c'è trippa per gatti Ottimo Doppia palla Doppia palla assieme Sì ma vai verso lo spawn Che così ti distruggiamo proprio l'anima Addio 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 Mia cara rosa Addio Mi piacerebbe dire che è stato un piacere Ma no Non lo è stato Perché voglio essere io il pezzo grosso Cavolo E ancora Non siamo noi il pezzo grosso Abbiamo Jesse contro Quindi questa praticamente La considero persa Vabbè E come al solito Jesse in questa modalità Vince Va bene Va bene Quanto era scontata Sta cosa Adesso proverò ad andarci solamente con 10 biglietti Per vedere se adesso mi fa pezzo grosso Perché magari ho paura che mettendo 20 biglietti non mi fa essere pezzo grosso Niente No niente È impossibile Bibi non sarà mai un pezzo grosso Quanto stiamo facendo male a questo color ragazzi Dopo un minuto ha già la vita al 14% 13 ecco Ci sta morendo malissimo Mi spiace un pochettino 1% Niente Anche questa si vince Vado di nuovo con 20 biglietti ragazzi Ho quasi sprecato 200 biglietti in questa modalità Per usare Bibi come pezzo grosso E ancora non mi fa Diventare pezzo grosso Ma io non ci credo Ci sta quel corvo che sta scappando da tutta la partita Ma che cacchio Come cacchio gioca Ecco pure io che me lo allontano Non ci credo che ha vinto correndo così in giro per la mappa come un nebete Andrò con 5 biglietti sperando di essere almeno una volta il pezzo grosso Che cavolo ragazzi È impossibile questa cosa E non ci credo Cioè quando uso 5 biglietti mi fa essere il pezzo grosso No vabbè questa cosa è impossibile Adesso voglio buttarvi a tutti quanti i nostri avversari Ecco abbiamo pure un Leon contro Mi piazzo qui zitto zitto Boh ma di... Quanti danni facciamo signori Via Via tutti quanti Via tutti quanti Ora voglio vedere la mia super tipo che Fa due mie di danno Ok però mi devo un attimino calmare Perché qua ci stanno uccidendo malissimo Dobbiamo andarci noi contro gli nostri avversari Ok Sono tutti quanti avversari dalla lontananza Ma siete seri? Cioè davvero Vai a voi vi lanciano tutta la mia palla gigantesca Sì c'è un minuto Siamo ancora più di metà vita GG a noi Ci sta Attenzione qui Via No non li ho presi Non li ho presi Devo prenderli Ah perché non li riesco a beccare Ok Ci sta Chissà dove era Casa mia E quel bambino che Giocava a baseball Ok quel leone sta facendo troppi danni No muoviti Muoviti da questo posto Malsano E' bruttissimo Oh Addio leone Addio leone Troppi Troppa gente Troppa gente Io vado di qui Mamma mia doppia kill Così senza senso Un minuto e 54 Non ci posso morire adesso signori Ok a te ti faccio fuori Dai e dai e dai 10 secondi Basta che resisto 10 secondi signori Ok Voi via Via tantissimo Abbiamo vinto signori Ci siamo riusciti Ci siamo riusciti A vincere Grandi Grandi signori Grandissimi 2 minuti e 19 Con la nostra BB Purtroppo solamente 110 token Perché ho sprecato Quanti Un attimo Vediamo un attimo ragazzi 195 biglietti Per riuscire a diventare Pezzo grosso Con BB Voi lasciate un bel like Per questa cosa Che non so neppure io Perché l'ho fatto Perché alla fine Ho davvero Sprecato Tutti quanti I miei biglietti Per riuscire a essere Pezzo grosso Con BB Di cosa è venuta Iscrivetevi al canale Se ancora non avete fatto E seguitemi su Instagram Perché Instagram È fondamentale Fidatevi Dello zio muscio E noi quindi Ci vediamo magari In un prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.